Oggi provo a fare tutto da sola. Non dovrei avere problemi. L'importante è che anche gli altri facciano la loro parte, giusto? Oh no. Ho 4 minuti per arrivare dal veterinario. Ciao, fuori! Oh mio Dio! Incontro importante genitori insegnanti oggi alle 5 e ci sei, vero? Figurati se non trovo una babysitter. Sì, ci riuscirai. Allora, oggi che appuntamenti ho? Sei super ritardo per i meeting. Ma dimmela prima queste cose! Arrivo in ritardo al mio primo allenamento di calcio, pazzesco! Mi dispiace, ok? Faccio il possibile. Impegnati di più, allora! Cazzo, 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 cazzo! Veniamo alle torte. Niente BPA, niente MSG, niente BHA, niente BHT, niente sesamo, niente soia, ovviamente, niente noci, uova, latte, burro, sale, zucchero, farina. No! E che succede? Sono stufa di dover fare sempre la mamma perfetta. Basta! Sì, fare la mamma, hai detto quello che ho sempre pensato senza mai riuscire a dirlo. Tutte quelle regole di merda da seguire. Non punire i tuoi figli. Non dire di no ai tuoi figli. Ci facciamo un culo così per dare ai nostri figli una vita fantastica, magica. Ma la loro vita è già fantastica e magica. Facciamo le mamme cattive. Io ci sto. Le mamme cattive! E controllati, cazzo. Diamo una bella lezione alle mamme perfette. Quelli sono bignai comprati al supermercato. Oh, ecco. Amy, io ti distruggerò. Io propongo di abbattere quella stronza con un cazzotto sulle tette. Grande! Andiamo! Ciao!